Gozze, palla sul destro, Gozze, Gozze prova a passare, c'è il fallo di Mario Fernandes, c'è il calcio di rigore Parte Thomas Müller, CSKA di Mosca 0, Bayern, Monaco 1 Lancio di Eremenko per Musa Benatia, non guarda il pallone, solo l'avversario, Musa gli va via, Musa tutto solo, Musa! La parata di Neuer, ancora il ligeriano, la mette in mezzo, Kozic con il sinistro, sbaglia un passo dall'1-1 il CSKA di Mosca Ecco il cross verso Ignasievi, c'è anticipato, Romano Eremenko finta il tiro, porta palla sul mancino, Eremenko! Palla per Schak... riesce a passare, palla fuori, calcio d'angolo Grazie! Grazie!